sei in diretta, perfetto check che vedo io sullo schermo come si vede vai nel cockpit effettivamente si vede molto bene devo dire se si vede meglio qua che sul ah ecco ovviamente io ho ah no, ho due di tasto a me sembra che funzioni molto bene dai, dacci uno sguardo anche te sul sito faccio ma compie il colosso di 800 dato quello è lì in questo video facciamo un test a me sembra che si vede bene vediamo come si vede se potrebbe direttamente come si dice ecco questo invece si sente vedi il click lo sentiamo io lo vedo bene io lo vedo bene 6080 x 60p ti vedo bene adesso ti metto anche sul monitor no no io ti vedo bene sei sgranato no no io lo vedo bene io lo vedo bene io lo vedo bene lo vedo bene cioè mcd menu chiedo un momento un test anche gli altri rimane qua io lo vedo bene 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 perfetto perfetto si vede veramente molto bene si eventualmente fai solo ah ecco una cosa lillo a primo secondo bravo lillo ci siamo ci siamo no qui ci si è un tetto secondo fermati lo guardo dall'altro sistema aspetta eh controllo quanto abbiamo quanto hai di rate di di upgrade ah ah hai capito ah oddio non ce l'ho oh non la fai prendere sto link ho diventato ok gestore streaming adesso è pronto hai 5.865 totalmente di di upgrade dunque funziona bene quindi anche un follower adesso giusto perfetto direi che che funziona l'unica cosa un secondo uno due tre quattro cinque un po' check ok l'audio c'è questo c'è tutto a posto c'è no l'unica cosa lillo ehm voi fate eventualmente se ci sono fatti le voce un di collo vedere solo un po' le fps fai un rannuier di climb vertical e via poi l'immagine della telecamera la metteremo magari in basso destro qui anche a metterlo sul tablet ho visto il film in basso ci sarà anche poi da controllare le eventuali temperature che ci sono che ci sono eventualmente prima della GPU e della CPU che pompano un po' quando si è streaming quindi da capire effettivamente se necessita o no di un 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 il una 1490 è solo leggermente è solo dei bordi questo o Pence l'interno se ci una volta Grazie a tutti. 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 500. Grazie a tutti. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 5. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 15. 15. 15. 15. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se tu prendi il tutto dallo stesso, qual è di questi che prende la mia voce? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono patato le tue periferiche che ti possono dare una mano in questa cosa. Allora, la musica non è male, mettila ancora... Ecco, più o meno così. I volumi non hanno bisogno di transizione. Ok, adesso, vai qui su. Ah, ce l'hai tutto. Ok, adesso io non vedo muoversi del volume lì in mezzo. Non ce lo vedo. Non ce lo vedo. Facciamo. Facciamo un tutto diverso. Facciamo un tutto diverso. Perfetto. Apri. Allora, fai una cosa. Apri. disco. sui mixer di Windows. Su mixer di Windows. Su mixer di Windows. In base a... Non so come ce l'hai impostato. ecco. Ecco. Se no qua clicchi con il destro sul mio. E' bravo. Vai un po' più in su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, check. Ok. Direi che adesso, come volume, stiamo messi bene. Perfetto. La musica è giusto. Sì, Ed, sono felicissimo. Ci stiamo avvicinando, eh. Il quattro. Adesso ho pubblicato anche la pagina streaming. Qui abbiamo messo l'immagine del calendario. Ne riquadre che devo mettere un po' a posto perché così proprio non mi piace, no? Però... Si è piano piano. Siamo felici, dai. Si parte bene. Bene e bello, soprattutto. Allora, questa qua. Perfetto. Perfetto. Ed è anche Lilo che scrive, eh. Adesso il canale diceva lui. Dunque... Siamo a posto. Ah, io direi Lilo che siamo a posto. Cosa che non capisco, ma bisogna dirla al Dan questa, è perché vedi che c'è un... Scusate, una domanda. Dov'è il Windows Capture? Tu stai prendendo da quale... Nelle sorgenti. Clicca la prima, quella che abbiamo messo adesso, giusto? Ok, perfetto. Ah, ho capito. Allora, le cose sono due lì, lo vedi? Ho capito com'è. Allora... Vedi che rimane spazio sopra e sotto? Può adesso eventualmente poi strecciare l'immagine, vedi che c'è il quadrato e disposizione in tutti i lati? In modo da metterla a pieno schermo. Ok. Questo dovreste farlo... Esatto. E stinti di ingrandirlo. Ancora... Però, vedi, vai, vai avanti il Correlino, vai, vai, vai. Te lo fa fare? No, non te lo fa fare? Ah, no. No, allora no. Perché il danno occupa tutto. Però, attenzione, il danno non vede quello che vedi tu. Ah, no. No, allora no. Il danno praticamente lui ingrandisce l'immagine, però ingrandendo l'immagine va a eliminare ovviamente una parte di schermo che lui vede. Dunque, ad esempio, quando lui l'allarga, perdiamo quello che è il MFD. Ok, vedi due primary a sinistra, vedi il divisorio con il nome dell'aereo, lo Selcal e l'orizzontore artificiale, magari, ma dove c'è l'indicatore dei motori, magari lo vedi. Ah, no. Quello che bisognerebbe fare, in questo caso, bisogna che lo chiedi al Dan. Bisogna chiedere, eventualmente, a lui vedere come impostare il step. Però io direi, Lino, se ti piace. Io non so come funziona, non ho mai cliccato su nessun tasto, io adesso lo so. Magari, amici, continuiamo a sguardo un momento. Vorrei caricare il tuo profilo. Ok. Posizione schermo, aggiungo i soggetti, aggiungo i soggetti. Mostra impostazioni aggiuntive. Acquisisci pulsore. Così. Questo qua lo prendi, non lo puoi scendere. No, esatto. modalità, prestazioni, proiettore, copietta, trasforma, estendi su tutto lo schermo. Adatta allo schermo. Puoi fare estendi o adatta allo schermo sul trasforma? Appontamente, Lino. Però non vorrei che poi lo rovini, eh. No, non fa niente. No. Allora, direi quasi Lino che puoi rimanere così per adesso. Perché poi, ovviamente, noi possiamo effettivamente zoomare l'immagine. Però ricordi che un pezzo di sim non si vede. Non si vedrà. Comunque, così io vedo bene, eh. Perché io così riesco a leggere tutto. Riesco anche a leggere fondamentalmente. Se i miei film ti non roccio lo schermo, mi leggo anche le i fissi. E così vediamo esattamente quello che vedi te. Se invece vuoi che l'immagine la vada su tutto lo, si strecci, su tutto lo schermo, allora, eh, allora è un altro discorso. Diciamo, quel lato lì, eh, vuol dire che lo ingrandisci, ma un pezzo di quello schermo lì, lì, lo ti va direttamente a, a essere perso. Tu ovviamente lo ingrandisci. Quindi, ingrandendolo, eh, ma senza riproporzionarlo a una finestra, perderemo un pezzo di schermo. Dunque, se hai l'HDR, ok, lo provi, eh, lo riesci a toglierlo di casa tutto. Perché tu hai in modo, eh, hai il tablet, no? Vabbè, o sennò poi mettiamo il video, poi non lo pubblico, ma lo lascio in libreria, così te lo guardi. Ricordati sempre che il simulatore su cui c'è leggermente più scuro. Sì, guarda un po'. E poi, ecco, una cosa che bisognerebbe vedere lì, no? Però non so se a te serve per ciclare il suono del ciclo. Non so, tic, 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 tic. Ecco, questo non so se lo puoi eliminare. O se ti serve lo tieni e vediamo però allora di differenziare le uscite e di abbassare il volume. Poi le casse più le casse del computer, vero, lì, no? Non so se hai due sorgenti, poi in base a quella che... Esatto, bravo, vedi? Se non ti dà fastidio di non averlo lì, no? È una buona cosa perché esce in live. Infatti adesso per quando vedrai e fai il check che riguarda il video, adesso che sei in live non ti preoccupare, ma una volta che ti riguarda il video sentirai il kick, in questo caso è spettacolare. No, non male veramente. Cos'è? Windows 11. Ho fatto un secondo, dillo. Rimetti la cadiera. Sì, diciamo che... Ritoglielo di nuovo un secondo, aspetta che spengo tutto. Aspetta un secondo che ritoglio, aspetta, aspetta, aspetta. Spengo le luci di casa, spengo anche la tv, faccio in modo di avere solo lo schermo perché se no non va bene. Ok. Fai di nuovo uno switch, poi conti fino a tre, e poi lo switchi nuovo, così sono a buio. Arrivo un secondo, ma... Ok. Va bene. Ok. Ok. Oddio. Sai che a livello di streaming tutta questa differenza non la vedo lì, l'orto di connessamento. Se ti pesa, in questo caso fai a meno. E' eventualmente... Ma mi sembra un po' guai. Ma forse perché sai a livello di streaming i colori, no? Eh, lo streaming è già più scuro di base. Infatti, i colori che io ho visto nel tuo tramonto, qua il streaming vero e proprio, con quelli che sto vedendo adesso io, ecco qua, sui Discord, non sono, sono molto più caldi di quelli che ci sono nel streaming. Comunque, tipo le luci del cockpit, il mio cockpit, sono molto più gialle. Comunque lo vedrai quando guardi la live. Comunque, io direi Lillo che... Va bene. Togli la dev mode eventualmente. Conta a chi non vedo la finestra, gli streaming vediamo praticamente, se solo il sim è la parte sopra della... su quella lì la... la top del sim, lì dove c'è scritto dev mode, plus camera option, il mio disegno. Perfetto. Poi la tua immagine, nella live invece, a questo punto, la possiamo mettere in un riquadro. se tu lavori così, mille cose 40, possiamo fare un layer che ti va a riempire. Cosa c'è il danno? Vedo ultraluminoso ora. Ok, toglie, non cambia... Noi non cambia niente a livello di... Sai quello che è meglio attivinare? Noi non cambia niente. Una cosa che vorrei però, mi piacerebbe, condividere... e questa la aggiungiamo adesso Lillo. E' l'immagine... aggiungiamo la sorgente del tuo tastierino in alto a destra Lillo. Perfetto, tranquillo. Perchè? Perchè appunto mettere in live il tuo tastierino, mi permette anche a me, quando siamo in live, di poter argomentare sul tuo sistema. Allora, aspetta, no, no, fai così Lillo. Prendi giacca... Prendi giacca attura una finestra, una delle finestre che hai tu a seconda nel menu. Ho bisogno di fare un altro sorgente. Poi bisognerà eliminare l'altro sorgente se non lo usiamo. Guarda un po' se nella lista la becchi. Ok, è normale che non la vedi adesso. Adesso deve esserci... sblocca l'occhio. Sai che c'è l'occhio? Ok, perfetto. Magari eventualmente la puoi leggermente ingrandire. E l'anlinei tipo a sinistra dello schermo. Nella parte alta poi mettiamo tutte le intestazioni, ad esempio. Guarda che figata questo sistema di giant. non c'è l'occhio. Ah, non deve esserci l'occhio. Se no, non puoi muore. Aspetta. Aspetta, aspetta. C'è l'occhio mica chiuso l'occhio questa cosa? No, no, no. La vedi che mi c'era l'occhio? Si, è un po' fastidioso senza mouse. Fa' sto lavoro, ma probabilmente anche per te. A volte mi clicco, mi piglio il layer sotto. In genere si mette il lucchetto su tutto. E togli il lucchetto solo dalle cose che vuoi muovere. Così sei sicuro che non... Che non... Ecco, vedi, non te le cambia. Metti il lucchetto a sto questo, va. Al primo. E' quella del gioco. Ok. Ovviamente tutto funziona a layer, dunque probabilmente se questo è sotto il layer del simulatore, se tu adesso lo metti in mezzo al sim, non dovrebbe vederlo, perchè sono dei livelli, no? I livelli fisici. E' nel casino. Vabbè Lido, te lo faccio io col mouse. Ti imbasti io, eh. Fai tranquillo. E poi mettono in live, basta che poi in alto fai transizione. Il lucchetto non deve essere messo su lui, eh. Aspetta. Quello che devi modificare deve avere il lucchetto aperto. Tutto il resto deve avere il lucchetto chiuso. Tutto due cose li vedo al mio di vicino. Perfetto. Adesso poi quando vengono date comunque facciamo un piccolo test. ci sarà da installare la telecamera. Ecco vedi, infatti vedi che va sotto, bravo. Ok. Questo puoi anche lasciarlo così senza che tocchi, e metterlo tutto un po' più a sinistra e lasciarlo qua. Come vuoi tu. Poi vediamo queste cose li lo le facciamo in un minuto, eh. Adesso fai un'altra transizione. Posizione. No, occhio che stai spostando qualcos'altro, vedi? Per selezionato. Ok. Perfetto. E questa è la tua tastiera con cui stai lavorando. Perfetto. Perfetto. Si vede benissimo, sì sì sì. Poi tutte queste cose le andiamo a testare. No? Togliamo tutto quello che non serve. Faremo due, due, tre check. Sono felicissimo lì di vederti qua online, lo sai? Questo è com'è. Fondamentale è questo. No, pantalma come si dolce. Si, poi diciamo, sceglieremo un layer da mettere, però secondo me lì lo sarebbe... vediamo col forno di farci fare magari un qualcosa di bello. Se lavoriamo così, con lo schermo, con un sopra e un sotto, ok? vedrete, se vuoi fare la live full screen, te la fai full screen, saprai che da quel pezzo lì di aereo a quel pezzo lì di aereo le persone vedono, ma da quel pezzo, da secondo pezzo in poi, ad esempio, lo vedrai solo tu. con questi effetti operazioni col mouse sulla parte destra, ammettiamo che adesso, se tu ingrandisci tutto a pieno schermo, no? c'è speed, speed, hdg, ecco. Ammetti che noi vediamo fino alla righetta verticale che c'è dopo l'hdg, ok. se lo metti ad esempio in tutto schermo, loro vedranno, noi vedremo quello a parte lì. Ricordi che la parte dei tasti a destra, ad esempio, non la vedremo, dunque non vediamo il pallino di hdg track, l'apl, ap1, ap2, autotrottle, eccetera. o allora lo lasci con me adesso, ad esempio, lo schermo, e riempiamo sopra e sotto con la tua tecnologia, con delle scritte, eccetera, eccetera. Che comunque, guardando così, il simulatore secondo me è bellissimo, per 7.440, non sgrani, non fai niente, sei in hd, cioè sei in hd piena qua, si vede bene, sei in hd, potremmo studiarci a una roba, una roba del genere, assolutamente. Non verrebbe assolutamente male, si vede benissimo, secondo me, e si, si vede benissimo. C'è anche tutte le tue visuali, tutte le tue impostazioni. la sedile. Così, mentre tu fai le tue operazioni, eventualmente, la gente sul tuo tastierino vede quello che fai. Dunque, è una buonissima cosa perché diamo in diretta, poi col fatto che si vedrà, ti invitiamo la telecamera, vediamo te come ti muovi sui tasti, vedremo, vedranno e riusciranno a collegare il tuo pubblico, riusciranno a collegare l'interazione tra il tuo hardware e il software allegato. Comunque, è una buona cosa, anche quando andiamo poi in sviluppo, vedi, come adesso che stai girando nei tasti, nelle tue selezioni, quando saremmo nello sviluppo, e col CNR, con le altre aziende, adesso quelli lì di Tobi mi hanno detto che mi rispondono settimana per settimana, poi da lì, sarebbe, secondo me, molto interessante, quando fai i test, eccetera, eccetera, far proprio vedere gli eventuali software, eccetera, eccetera. Dunque, questa cosa di lasciare, di avere un pezzo sopra, un pezzo sotto vuoto, non è male perché possiamo ammettere una stupenda, una strip fatta bene, il forno ti fa, il biografico ti fa, fada bene con tutti i dati, il layer comunque del, il layer del volo, ok, che anzi sai cosa facciamo? Facciamo così, te lo passo direttamente, il fly live studio, ok, e poi ti passo gli overlay, anzi no, l'overlay tuo per, ecco, l'overlay lo dobbiamo fare, quello nuovo di, di fly live studio, e poi te lo esporto, dunque poi, magari, quando hai voglia lì, lì, lo stasera domani, facciamo la, facciamo direttamente l'esportazione, cioè lavoriamo insieme e facciamo un aumento sul cacchio di template del programma fly live che poi è quello che ti dirà il purple sign, la distanza da dove a dove, eccetera, eccetera tanto per le persone che in questo momento ci stanno seguendo stasera stiamo facendo un test, è Lillo, è Lillo in live e in alto a sinistra, vabbè, siamo su 320 userà il fly by wire per la sua prima live del 4 giugno perché almeno che una Phoenix non riuscirà a risolvere due o tre problemi collegati appunto all'utilizzo da parte di Lillo o di quell'aereo attualmente, diciamo, non ha una gran buona, non ha una sensibilità tale per cui Lillo riesce a usarlo recentemente e dunque abbiamo scelto, abbiamo scelto di continuare con il fly by wire fil che a Mir non riuscirà, stiamo agli altri, metterà a posto questa cosa non riesce a volare, però, diciamo, magari non nel modo in cui vorrebbe farvi vedere il stream non può sfruttare, non può dimostrare effettivamente come lo vola in alto vedete il suo tastierino, dunque abbiamo il suo programma Keybit e poi per la live del 4, qui ci sarà lui, qui ci sarò anch'io e sarà bello, sarà un bel pomeriggio, infatti vi aspettiamo abbiamo anche pubblicato lo scheduling oggi ovviamente nella nostra pagina qua, eccolo e dunque dai, siamo abbastanza online perfetto si no, secondo me Lillo la cosa anche di avere lo spazio sopra sotto non è male tu lo vedi eh, su Streamland, tu su Streamland, tu su Streamland vedi esattamente l'immagine di quello che vedo io dunque è come se tu avessi la live aperta e via e via una cosa che volevo dire è se ci possono essere attività, poi vi faccio qua ad un altro momento aspetti Phoenix con FS2Q, eh, bravo comunque il 4 Lillo Online, bellissimo volo Goa FCO e poi anche il 5 si farà invece due voli, un pomeriggio, un pomeridiano e un serale poi mano a mano lo schedule lo aggiungiamo con l'attività di Lillo, di Dan, ecc poi cambiamo anche la descrizione del canale, la vogliamo un po' migliorare e poi abbiamo fatto un po' migliorare aspettiamo che avessi visto l'Oga no, io credo che Lillo ci siamo messi molto bene a me non dispiace così, te lo dico sinceramente io mi sentiva bene anche Teo se volessi viaggiare giusto a full si può vedere, ho visto che comunque ci sono un paio di click da fare però secondo me poi rimanerebbe così in attesa di fare un check proprio così migliore Ed che dici e racconti come stai? ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo messo un po' ma ce l'abbiamo fatta intanto ovviamente come vedete Lillo ogni cosa che deve fare adesso la tecnologia che utilizzo sono i tasti quindi si andate sulle un po' se ho aggiornato i comandi comments c'è un website voilà, questo è il nostro sito, c'è il progetto Lillo Lollo Dark Alex, grazie mille per il follow grazie mille, non si è visto perché la finestra è ancora vedi Lillo in questo momento il follow non si è visto per il fatto che il ciao Red mica avete fatto mica un raidone a quest'ora mica siamo un po' più in testa con Lillo allora innanzitutto benvenuti a tutti veramente benvenuti, sono felicissimi che siete passati sì sì abbiamo visto che è un raid me ne sono accorto ovviamente le notifiche ragazzi stanno girando solo che sono qua con Lillo che è online e dunque è lui che sta streamando io sono in voce con Discord con lui che faccio dal suo speaker ovviamente stiamo facendo i vari settaggi della dello streaming abbiamo qualche problema appunto per il fatto perché lui è in 1440 e qui siamo in 1080 quindi stiamo cercando anche di capire se tenere questi spazi neri sopra e sotto per riempire ovviamente con il tutto ecco il grande Lillo scrive lui eh io non ho non ci sono in testo dunque è tutto Lillo stasera e niente appunto stiamo facendo i vari test quella che vedete in alto a sinistra ragazzi è la tastiera del programma KeyVit vi rifaccio per chi volesse capire velocemente di cosa si tratta diciamo praticamente il nostro amico Lillo è ragazzo tetraplegico di conseguenza con una tecnologia home work home made sta usando il simulatore ecco il Phoenix perchè al di là di quello ehm di quello che abbiamo provato con le nuove evoluzioni che Amir ha messo a disposizione ehm per me le son perdute li abbiamo voluto bene ehm finico e dunque però il problema è che è ancora troppo possibile non vediamo ehm non vediamo ancora Lillo che stasera in live perchè la telecamera ce l'ho io accanto a mia il 4 ci vediamo eh ci sarò anch'io in live con la mia brutta faccia ma soprattutto Lillo dunque ehm se poi date appunto uno sguardo sul sul sito capirete bene bene la tipologia di live che andremo a fare e ehm e ehm voilà intanto red ehm ho messo ho messo sul sito vabbè c'è anche qua come immagine c'è ehm ho fatto un piccolo flyer no? per la live di Lillo ehm volevo sapere eventualmente magari ti metto il link dell'immagine te la puoi scaricare direttamente dal web grazie Garandrea per il follow te la puoi eventualmente scaricare dal web ehm se ti va di pubblicizzarla sul vostro discord magari che così sabato prossimo alle due e mezza ehm stiamo in live dunque ehm se riesci magari a fare un po' di pubblicità ci fa ci la faccio io so che tu sei ai concerti dunque sarà un po' un casino per te ma mi fa veramente ehm piacere grazie Garandrea per il follow benvenuto ah beh se ti disse va bene intanto guarda le grazie grazie mille red veramente oh poi magari più in là vediamo un po' di grazie a qualche qualche live vediamo un po' cosa come fare eeeh poi appunto con il FLAB EWAR si può già fare un discorso di volare con gli controlli molti qui con LILO dunque eventualmente adesso stiamo creando una checklist apposta con LILO anzi gli abbiamo ancora gli abbiamo ancora imporre il lavoro ecco diciamo la verità ehm però poi fargli fare appunto una checklist che sarà usata appunto dalle persone con invalidità e e si possono appunto con questa checklist possono lavorare con con noi che gli diamo una mano con i controlli molti più dunque voilà questa è la cosa buona aspettando Phoenix aspettiamo per adesso LILO sta aspettando l'FS2Q a meno che Amir non riesca a mettere a posto questa cosa perché il problema di LILO è che appunto LILO va tutto a tastiera mi sta pilotando con dei tasti che ha dietro la testa e vabbè si vede sul sito eccetera eccetera però appunto ehm sono input tastiera dunque per adesso su determinate operazioni perdere il controllo dell'aereo se non c'è e di conseguenza rimaniamo sul fly-by-wire preferisce rimanere sul fly-by-wire per quel motivo lì ehm con l'FS2Q dovrebbe ritornare a essere intanto l'Irma in giro e ciclo sulla sua nella sua scacchiera le sue opzioni ehm con l'FS2Q invece dovrebbe avere quell'aiuto in più in genere dovrebbe toglierlo dalla situazione appunto che uno riesce a gestire con la tastiera e via contate che ogni volta che lui clicca con la testa su uno dei pulsanti sul su un po' già testa è un click di tastiera dunque dobbiamo sempre pensare che noi ad esempio dobbiamo fare 3, 4, 5, 6 click con la tastiera e riuscire però avere una sensibilità e una reattività tale da parte del software che ci pade più di gestire questa cosa infatti con la tastiera non sono mai riuscito a giocare vediamo vediamo un po' dove andiamo è un po' quello che facciamo e via è un test eh ragazzi infatti ride ti ringrazio tantissimo perché non mi aspettavo veramente stavo per venire poi da te a dirti ueo guarda se sei abbiamo fatto il primo ride con Lille così invece avevi fatto ride e ci avevi fatto un regalone veramente un regalone così abbiamo potuto anche in un certo senso farvi vedere in altre prima lui perché in genere il canale appunto l'abbiamo iniziato noi e ma anche a me è fatto tantissimo piacere veramente e poi vabbè il sito è su comunque adesso faccio la pagina partner oh Martino buonasera buonasera e parliamo la pagina partner ecco vedete in questo momento in live come lui si muove sui tasti vedete con la testa quindi questo lo sta facendo tutto con la testa e questo è il sistema che la pastilla di cilice è esattamente quello di semplicemente il programma che ditte ricordate che appunto l'applicativo che ha lui è un applicativo fatto in casa con sì tecnologie per persone con attrici di disabilità ma non sono veramente fatte per niente e in questo momento appunto lui sta usando una tecnologia adattata tra virgolette e il nostro progetto è quello di creare invece guarda io lo dico così proprio detto grezzo un joystick un joystick per disabilità che poi sia un casco con tanti leve tanti pulsanti tanti joystickini all'interno non si sa ma abbiamo diverse idee io stesso con lillo stiamo cercando di parlare insieme di trovare di capire le sue necessità io non sono un programmatore ma non di queste cose abbasso il simul ok perfetto lillo poi dovrà abbassare leggermente il volume del sigma eventualmente il volume è uguale il volume con Canon ovviamente con il volo non gli viene così facile grazie mille Martino con il volume con il volume con il volume è uguale se non abbassi la mia voce no rimettilo come era prima è uguale quindi avete pazienza ragazzi stiamo a ok e adesso nel mixer di windows quello là che c'hai abbassi semplicemente il sim calmo sicuramente ecco è arrivato il nostro amico Dan nel frattempo ciao Dan stiamo facendo con lillo online ok ciao una domanda mi fai un certo al canale lillo il dato secondo lillo abbassa solo il sim un po' stiamo stremando il 1440 rimane spazio sopra spazio sotto però direi che non è male ci dà spazio per il layer però magari se mi diceva tu a Dan tu voli tu quando l'hai fatta l'hai fatta l'hai fatta a screen eh così perfetto magari abbassa ancora un goccino il sim di poco lillo ok così direi che va bene e poi nel mixer puoi abbassare leggermente la musca secondo me proprio poco voilà abbiate pazienza che appunto siamo in tasto adesso vedete che usa la tastiera però su altri ora però adesso sta volando perfetto grazie Martino e ora appunto come dicevo abbiamo anche mandato una mela a Tobi a quelli di Tobi dunque vedere un po' insieme a loro se possiamo sviluppare un qualcosa che vada a traccare lillo avrebbe piacere ad avere un tracking sul naso che tracchi il suo naso in modo da potersi muovere un po' più liberamente con le visuali nel 3D in modo da appunto accoppiare una tecnologia per il movimento e il resto la tecnologia attuale appunto per l'utilizzo normale diciamo dunque la selezione il clic dei tasti e le varie fasi dei processi ciclici che lui effettua durante il volo come noi solo che noi lo facciamo rotella del mouse prendiamo clic sinistro e clic destro facciamo due cose contemporaneamente 3-4 lui invece ha solo questi tasti dietro la testa e entra verso il software dunque dobbiamo riuscire insieme a lui a sviluppare innanzitutto un qualcosa che lo aiuti esportiamo questa tecnologia qua attraverso le scuole la mia donna ad esempio la mia compagna sta facendo la tesi laurea ed è in contatto con il CNR di Genova per lo sviluppo in terapia eccetera eccetera dunque è un bel progetto che avrà una spero una buona evoluzione speriamo che in futuro le persone con determinate invalidità possono tranquillamente giocare può stare insieme a noi e lì lo ragazzi vuole meglio di me se volessi volentieri e dunque sì diciamo che piano piano stasera stiamo appunto testando il tutto dal 4 di giugno alle due e mezza del pomeriggio ore locali ci saremo poi a ci sarà anche lì ovviamente in live in prima persona con la webcam in modo da poter appunto spiegare per far vedere il tutto come funziona durante le sue sessioni dunque se eventualmente qualcuno di voi è interessato può seguirci può darci consigli se qualcuno di voi conosce dei ragazzi che hanno terminato i problemi dei centri eccetera eccetera sul sito abbiamo la possibilità di poterci aiutare nel progetto in tanti diversi modi facendo perché chiamiamo gli ambasciatori piuttosto che i moderatori eccetera eccetera se qualcuno facesse piacere non è un qualcosa a scopo di lucro ovviamente stiamo registrando l'associazione che contiene ovviamente tutto questo per le varie ragioni legali che giustamente bisogna seguire e che comunque di cui comunque necessitiamo poi per uno sviluppo ulteriore del progetto e niente quello che speriamo di riuscire a fare sarà insieme a Lilo di creare questo che portava anche questo in Italia magari se riuscissimo in Italia per una volta a fare qualcosa di buono essere i primi nel mondo che una volta eravamo in pieno su tante cose intanto lì si sta facendo operazione di circuito in Italia in Italia in Italia ci saranno anche serate di Multicrew dove si potrà volare insieme a lui stiamo creando una sezione stiamo creando una community la Elements che è una community esistente di Multigaming la prima community per persone la chiameremo la 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 Para Elements perché appunto è una community basata sul gaming non solo sul sim ma su tutti quei giochi che possono effettivamente essere utilizzati da una persona che ha quelle tecnologie a disposizione queste attuali quelle che speriamo di acquisire e allo stesso tempo con Lilo faremo la prima via la prima via per persone appunto con disabilità una specie di para via e dunque una delle attività della para via sarà poter volare in Multicrew anche perché Lilo ad esempio non può parlare di conseguenza quando vola in Multicrew con Silvio ad esempio uno dei piloti nostri di Allegorian Silvio mette la sua voce dunque dà la voce a Lilo e riesce a aiutarlo anche perché li va o invazzi quando Lilo vola in chat ci fa comunque tutta la serie di lavoro in più ricordiamoci sempre che lui fa tutto usando solo la testa dunque se si riesce a togliere la parte testa che è abbastanza loiosa a quel punto è bello poi anche bella proprio l'interazione che c'è fra noi e loro ci ci compensiamo a vicenda e volare un qualcosa di nuovo e di diverso qua da anni e anni io Dan e Lilo siamo i veterani della simulazione siamo vecchi ormai io arrivo a 40 anni più giovane Lilo e più giovane tutti perché era il 28 grazie mille Martino per il tipo grazie 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 mille gentilissimo allora va a finire l'abbonamento per il multistreaming per il progetto comunque cerchiamo di abbiamo le nostre spese ma ovviamente ce li mettiamo noi però veramente di grazie di cuore Martino è stato veramente troppo gentile e chiedo scusa che non sia uscita la grafica però stiamo in test dunque l'audio c'è però il messaggio è molto sotto sim perchè sui lei ho sbagliato ti aggiungo subito ovviamente Martino però questo ti metto nella lista questo lo faccio absolutely adesso voilà va va bene va bene quando c'è buon vento quando c'è crosswind non è così facile atterrare adesso va a mettere in reverse in reverse tutta la sua procedura se volete possiamo spiegare la così veloce veloce lui ha una scacchiera ha dei tasti come vedete nel sito come c'è anche qua non l'ho più messa vi immagino perchè stiamo un po' rifacendo anche il canale però appunto abbiamo lui ha dei tasti che usa con la testa e di conseguenza ha una scacchiera che questo programma gli mette a disposizione e ogni casella di questa scacchiera contiene per lui un comando o una serie di comandi la cosa che grazie mille martino e ah lì lo vedi sei preso i complimenti venendo che atterri meglio di lui atterra meglio di tanti anche di me grazie mille martino veramente di cuore ci vediamo presto guarda noi inauguriamo il 4 con lui 4 pomeriggi sabato prossimo alle 2 e mezza dunque save the date comunque lo dirò guarda tutta la tua via adesso mando il sveglio un po' tutti di stasettimana grazie di cuore buonanotte veramente grazie grazie di cuore e andiamo avanti nel discorso solo per finiscorso a questa enorme scacchiera in cui lui può riempire ogni casella di questa scacchiera con il comando che preferisce la cosa che effettivamente a me ha veramente sorpreso è la mole di di dati che lui riesce a mantenere in testa perché comunque la sua scacchiera lui ce l'ha comunque memorizzata ed è una cosa impressionante veramente impressionante contando che io ad esempio con lui ho detto ma se ti organizzassimo un sistema ma è un grande divino è un sistema di un casco dove magari possiamo crearti dei joystick a pressione ad esempio immaginiamo un qualcosa una specie di casco a U attaccato al poggiatesto della sua della sua sedia in cui può ad esempio avere delle leve che lui va a premere dai lati con la testa che queste leve ad esempio possono essere gli aileron si può dare il comando che più schiaccia ed è come se noi con il joystick ad esempio andiamo verso destra più schiaccia più noi andiamo verso destra dunque la stessa cosa le tecnologie ci sono bisogna un momento avere una nuova visione delle cose la cosa migliore appunto è parlare con lui quando facciamo le live con lui e soprattutto noi facciamo le live sperando che poi qualche uno del settore veda la live perché noi non conosciamo tutte le realtà del mondo che fanno questo in Italia non c'è così ci sono così tante aziende che producono e che lavorano su questi sistemi e soprattutto non ce n'è una che lo fa effettivamente sul gaming dunque per il tracking ad esempio del naso che lui potrebbe avere lì le ho fatti un pezzo di taxi per qualcosa da più tempo e per traccare un pezzo di naso per fare un qualsiasi movimento ad esempio usare un toby che abbia un filtro su quelli che possono essere ad esempio dei movimenti incontrollati che lui ha o che altre persone possono avere perché bisogna comunque immaginare che una persona malata affetta da SLA ad esempio ha un determinato momento un determinato perdita di controllo dei propri movimenti eccetera eccetera dunque ci vogliono dei sistemi che filtrino quello che non è effettivamente parte del movimento deciso della persona e vediamo un po' stiamo cercando di capire di vedere una cosa anche molto nuova la cosa migliore appunto in questo caso è partire da una base come quella che ha lui che funziona che appunto vola comunque su un sim può anche usare eventualmente se avesse il P3D usa l'FSLAB dunque il problema non sussiste sulle tipologie di aereo lui basta che lo impari e se lo studia la difficoltà è comunque girare in un 3D eh usando solo dei tasti tre quattro tasti che si hanno e si premono con la testa si che hanno anche ovviamente eh diverse funzioni anche loro stessi però non è assolutamente facile poi vediamo che noi usiamo comunque due mani una tastiera chi ha ehm un set a disposizione eh ha anche le manete può avere la pedaliera ha tutta una serie di oggettistiche in più fisiche che può semplicemente manovrare e che vanno a interagire col simulatore togliendogli il lavoro e togliendo carico sul simulatore se io ho le manette fisiche che mi sono comprato in casa è ovvio che non dovrò andare nel nel sim ad esempio per premere il toga eccetera eccetera faccio direttamente lì mi trovo un carico ad esempio invece ad esempio sui turbocock eh aerei come questi che hanno appunto tutta una serie di sistemi ehm danno a Lillo la possibilità ovviamente di poter volare un aero professionale questa è la cosa bella ma allo stesso tempo fanno perdere molto più tempo a lui ed è molto più limitato appunto nel suo tempo eh nel tempo che ah scusate il tempo che ehm utilizza per effettuare le operazioni è un po' troppo ehm un po' troppo grande e non è utilizzato la prima cosa è trovare un sistema per utilizzare il suo tempo e lì già arriviamo allo specie di sistema un po' più plug and play dunque una seconda tecnologia eccetera e poi vedere di incrementare partendo dalla base di quello che abbiamo adesso la sua tastiera e i suoi tasti e il la centralina bootpacker da lì partire e cercare di sviluppare qualcosa o una serie di joystick li chiamano così comunque un sistema plug and play eh ottimizzato per le persone con i problemi suoi o con persone che hanno anche problemi minore dunque sono tecnologie che possono essere eh usate innanzitutto per diverse persone che sono affette da diversi tipi di patologie e soprattutto non sono solo legati ai simulatori lillo guida anche le macchine gioca anche a macchine fa anche altri giochi eh dunque perché non non dare la possibilità appunto a tutti di poterlo fare eh liberamente dunque non è qualcosa che si basa solo sul sim noi partiamo dal sim anche perché troviamo che sia beh la sua passione dunque eh è il motivo per cui siamo partiti appunto quel progetto proprio presto e voilà questo è quanto spiegato appunto questi questi minuti di testo dunque a me lì lo sembra che tutto funzioni tranquillamente e e via il fatto della tasterina è a posto bisogna finire lei a preparare due cose ma siamo perché siamo online ci sei adesso poi quando vengo sabato mettiamo anche il camera facciamo gli ultimi set vediamo di fare un po' un buon mix del tutto e poi andiamo in live come ci siamo si tratta anche un geletto col flag high wire adesso non di questi giorni devo montare il video che mi hai dato te e metterlo sul sito o comunque metterlo anche su youtube eccetera vediamo un po' comunque il canale youtube ce l'abbiamo anche sul sito ovviamente trovate tutti i vari link ecco un po' tutti in lavorazione abbiate pazienza anche perché uno è in vacanza l'altro va a lavorare io ci lavoro di notte e lì lo ci passa le giornate anche a fare le cose dunque siamo un po' tutti molto occupati e ci vuole un po' di tempo ma riusciremo a piano piano a fare tutto intanto abbiamo anche poi la possibilità di fare queste serate dove abbiamo il DUN appunto l'IRL l'Airbus che ci fa delle serate un po' a tema dunque daremo anche un po' un un imprinting un po' più su desk un po' più sul real proveremo poi a fare anche ovviamente collaborazioni con altri canali allora l'obiettivo alla fine è cercare di far conoscere l'ILLO e il progetto che vi porta in giro appunto alla maggior parte di persone sperando di trovare aiuto comunque devo dire che effettivamente ha detto noi italiani abbiamo veramente un rancore questo bisogna dirlo dunque non dubito assolutamente eventualmente delle tecnologie italiane in Italia poi se magari lì lo riesco a farlo riusciamo ad avere un buon seguito magari un giorno bisognerà chiamare o Golia delle Iene o Ostriscia o comunque cercare di riuscire a portare poi in Italia in momento di stare se ti vanno a passare a tre video che conosco sì sì vanno te la passo e come dicevo passando in tv si spera di poter arrivare a più realtà aziendali per poterci aiutare poi se abbiamo culo ci arriviamo attraverso i social attraverso il sito eccetera però ci vuole comunque un po' di passaparola ma fare il primo evento diciamo avere già una persona che si presta che porta un progetto così che propone già una sua tecnologia funzionante eccetera eccetera è già secondo me è un buon punto un enorme un grandissimo punto di partenza nel frattempo l'Ilos è fatto il taxino adesso arrivo al suo gate siamo su FS20 Frag by Wire non c'è scritto nella descrizione ma è perchè siamo in live in test infatti non mi aspettavo il il ride da Red però è stato veramente in un certo senso utile anche perchè ci hai dato una mano a fare un paio di check e allo stesso tempo diciamo magari qualcuno ci aiuta a fare il save the date per sabato prossimo adesso poi Red passo da te il canale un momento insomma un punto di vieto qui a Lillo e al Streamlab se hai qualche consiglio qualche idea conosci molto meglio di me il mondo Twitch se hai qualsiasi cosa da potermi dire aiutare a Lillo a me per migliorare quello che è la grafica eccetera eccetera impostazioni a qualsiasi cosa welcome veramente welcome poi quando riesci mi piacerebbe beccarti anche in disco perchè vengo nel tuo canale ogni tanto ma non ti becco mai sei un po' latitante però vedo che sei sempre a lavoro ovviamente anche tu hai i tuoi perfetto è successo ecco ciclicamente lui muove muove un po' il mouse all'interno della vedi? muove il visuale riesci a fare un po' di operazione adesso ovviamente voi le vedete solo attraverso il tastellino perché appunto non è in line con la telecola webcam perchè ci voglio appunto a casa quindi avremmo sabato, però è proprio interessante che sia tutto qua, è incredibile, io l'ho trovato incredibile, tutti all'interno del gruppo hanno trovato che sia una cosa incredibile, non è giocare a scacchi o a un gioco in cui in determinati momenti nel sim abbiamo bisogno di una determinata velocità, di una determinata reattività, è incredibile, è veramente affascinante quello che lui riesce a fare, e dunque da lì è l'ultimo, perché non cercare di fare meglio, gli faremo anche la sua livrea, abbiamo il logo, road map non enorme, cioè road map bella enorme, ma diciamo è stata una buona cosa, adesso bisogna dire, e voilà adesso, l'unica cosa che voglio ancora vedere ho avuto con te, mi sembra che l'audio ci siamo, la cosa che veramente mi fa strana è che tu hai la musica, ma il file ce l'ho io, non capisco come mai, se vedete che l'avrà caricato sul sistema, quindi, perfetto, no, una cosa che devi riuscire a fare poi, ho detto, è spostare la Steam Lab, poi vabbè, quando sono a casa tua, facciamo un'impostazione finale, iniziale, poi mano a mano che cambieremo i layer, eccetera, eccetera, gli overlay, vengo da te, lo facciamo, e ti crea tutti gli standard, volta per volta, pre-live, live, film live, ok, con le tradizioni, però adesso, ma adesso, ovviamente, puoi anche tranquillamente, spostare il layer del streaming, al di sotto di tutto, tutto in basso, sai, la cattura del streaming, esatto, bravo, vai, lì voi non lo vedete, ma io sto guardando su un altro schermo, qui dal Discord, e riesco a vedere il suo schermo, ecco, devi riuscire a spostarlo tutto in basso, ok, perfetto, ok, adesso è già uscito, è già uscita la chat, adesso fai transizione in alto, adesso chiede gentilmente a qualcuno di scrivere qualcosa in chat, per vedere se riesce, se esce la chat sullo schermo, vedi, facendo così adesso, tu hai spostato l'immagine sim, soprattutto, comunque, tutti i layer, se una persona adesso inizia a seguirci, eccetera, eccetera, Martino, vedi, sull'alti 5R, eccetera, lo vedi, vedi anche gli avvisi, quella poi la dobbiamo personalizzare, la pollice ideale, la scritta è esatta, ci vuole qualche secondo per che arrivi in live, mi danno anche la latenza, poi ti procuro un alegato, così esce anche più leggero, no, la chat non è uscita, eh no, vedi, non ne esce la chat, la bisogna mettere poi a posto questa cosa della chat, o almeno che non è, per sbaglio, non è disattivato, adesso non vedo le finestre, un secondo che apre il programma, intanto che lo scusa chi è, che ci sta seguendo, ma se appunto siamo in testo, quindi sto facendo, settare un po' tutto a Lillo, allora, testo live, si ce l'hai Lillo, uno, chat box, dovresti avere un qualcosa che si chiama chat box, giusto? Lì in lista, eccola qua, c'ha l'occhio chiuso, c'ha l'occhio, deve avere l'occhio, deve essere visibile, no, credo che sia disattivata, o è visibile, ok, ovviamente l'occhio non deve, eccolo qua, perfetto, fai di nuovo transizione, e poi fai di nuovo testo, H, allora, è uscito, visibile, visibile, questo che vado a vedere, si fa con me, in genere la chat, hai uno screen capture da qualche parte, tipo il primo screen capture, scusa, elimina il primo, il primo screen capture non prende niente, vero Lillo? no, diteci col destro, fai elimina, o è quello del tuo computer, no, era il sim, vedi? allora, ecco, per questo che non si vede, ok, fai così, fai più, non avevi fatto un po', non avevi due, non vedo, no, scusate d'astra, tac, lo aggiungi, ok, ok, in gioco, fatto, tac, ok, vai lì, come hai due acquisizioni, comunque, porta questo tutto alla fine, tutto giù, è ancora più in basso, non è messo in più, vedi, che è possibile, scendere un po', ok, ce l'hai tutto giusto, ok, perfetto, oh no, chiudi un momento l'occhio lì, sai che non riesco mica capire, no, no, la chat c'è, c'è già la chat lì, è solo che deve essere apposta, deve essere apposta l'immagine, dunque c'è un qualcosa, attualmente lì, che è sopra l'immagine, la chat, tu ce l'hai, perché se guardi, se tu togli sti immagini, invece lì, spegni l'occhio delle immagini, guarda che questa qua, questo è il tuo computerino, il tuo computerino, porta da su di uno, lì, è sempre, immaginare che noi lavoriamo come studio di livelli, dunque, soft esatto, allora, cosa è il suo, penso che non riesca a vedere, perché anche se sono a pieno schermo, non riesco a vedere, adesso leggo in casa, allora, immaginare, windows, togliere l'occhio dal primo, riprendi questo, riaccendilo, questo deve andare proprio ultimino, in basso, selezioni, dopo, ok, adesso si dà anche la chat, adesso fai transizione, e la chat va online, allora, grazie, lì, la! eventualmente io dal, dalla robot, posso, si può modificare, Aspetta, il computer viene là, se vedere si vede bene, FPS ne hai direi. Vediamo un po' dove andiamo a parare. L'unica cosa è che fai una forma così lì, questo, ti do, ti mando un file adesso, qua, eccoci qua, check, voilà, adesso scarica l'immagine che ti ho mandato, e poi, una volta che è scaricata, la vai a mettere in, la prendi in stream hub, e lì quello che tu puoi fare poi alla fine, quando vuoi, se tu vai a sinistra sulla scena, è di sinistra sulla prima, tutta a sinistra, l'altra scena non la è quella per prima, ad esempio, o per dopo, per fare una nuova, ad esempio, o per esempio, o per esempio, l'immagine, cambi l'immagine, bravo, vai su, sfogli l'altra, grandi, attenzione, 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 sento nell'immagine, Togli l'occhio dalle altre scritte. No. Ok. Guarda tutto in basso, forse. Da poi anche credo selezionare gli attenuti da lì. Ok. Quando poi finisci la live, eventualmente, dopo, basta che clicchi su Transfer. Dunque trasferisci l'immagine del set che abbiamo di adesso a quello della fine della live. Lui farà una transizione, poi basta che fai il termine live. Quando fai il transfer, aspetti sempre un po' di minuti, il tempo che salutiamo tutti, eccetera, eccetera. Poi, dopodiché, quando è, fai direttamente, termina l'alto in basso a destra. Un po' di minuti. Uno, due, tre, quattro, dimmi un po', Ed, se si continua a sentire un eco, perché potrebbe essere che l'eco lo sto facendo io effettivamente, perché mi sto riascoltando mentre stavo facendo la live. Può essere che sono io stesso che faccio l'eco. Dimmi se adesso effettivamente sta continuando ad essere cieco. Ma ancora adesso? Vedo. Adesso, c'è una delle sorgenti audio doppie probabilmente. guardiamo un po grazie mille ci serve capire appunto se ci sono problemi quello del sim lillo pare che tu dovessi uscire su una sola sorgente comunque dimmi adesso ed se poi continua esserci questo eco o non sapere se adesso che stiamo effettuando modifiche continua ad esserci qualcun altro me lo conferma anche dan qualcun altro che in live mi conferma l'eco anche per capire se non è un problema solo di add eventualmente io sentendomi mi sembra di sentirmi bene ok e non è che c'è qualche volume tuo aperto fa doppio tipo quello cerchiamo di capire da dove viene questo eco e via per il resto glielo quando vuoi se sei a posto qualsiasi cosa siamo a posto si è fatto anche una live test di vari minuti non è che c'è un piccolo di nemo perfetto 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 mi ricordo eh sì può essere da discord effettivamente riesco sulle casse mille come il sim ciao ali ah adesso si funzionano tutti gli avisi eh quello è l'audio però bisogna abbassare un po' forse l'audio si c'è effettivamente questo fushio abbastanza alto lì l'ho proposto in lab ma è l'aereo che fa rumore ah no era l'aereo fuori che faceva sto rumore ok comunque lui non sente l'eco però sentiva un rumore di sottofondo no comunque è a posto perché era semplicemente l'aereo esterno il rumore dell'aereo esterno credo o mi confermi ali che funziona adesso va bene adesso ti leggo lillo ah era l'appu ok ah era un problema tuo ok no l'importante è che non sì no perché stai a arrivare quando non capisco dove è il problema mi viene un po' panico il giorno è balle perché appunto guardo i mixer e mi sembra tutto giusto comunque dato il ringrazio ovviamente tutti ricordo sabato sabato 4 giugno ore 2 14.30 pomeridiane ore i locali o 12.30 a Zulu facciamo la prima live con Lillo ci sarò anch'io facciamo due brutte facce in volo e faremo un Genova-Roma dunque sarà il nostro primo volo un volo a presentazione di noi soprattutto di Lillo e anche per dare ovviamente un viso a me un viso a me e un viso a Lillo altro è quello della foto fondamentalmente non sono uno che ha mai messo una cam e Lillo ancora neanche dunque faremo un'inaugurazione a tutto tondo e poi il martedì scusate sarà domenica ci saranno altri due voli di Lillo il 5 comunque trovate tutto nello schedone qua sotto nello schedone del sito che verrà aggiornato finché non avremo appunto il nostro calendario anche capire Lillo cosa vuole fare come vuole fare vedere le sue disponibilità vedere tutto e lo so guarda che son bello guarda che son bello vengo lì mi faccio anche la barba guarda ti dico una cosa se piove mi lavo guarda mi vento così da Ligo e dico vabbè dai non so che mette due euro vado a scoccare una doccia in spiaggia e mi la no sto scherzando vabbè intanto poi ci sarà solo Lillo io sarò la voce scomoda che c'è sotto dunque vi toccherà abituarvi a me ovviamente poi ci saranno anche serate con ospiti chiameremo anche altri streamer e voglio vedere chi degli altri streamer sarà partecipe e chi farà piacere dare una mano o chi ci snobberà perché anche in quel mondo lì voglio ben capire le tipologie di persone perché sono tutti buoni a fare il sorriso in live però poi voglio capire veramente se effettivamente per loro conta solo il il numero o se a volte magari è anche una buona causa può essere qualcosa che poi alla fine è sempre comunque una buona causa quella che stiamo facendo dunque non penso che però non si sa mai abbiamo già comunque un po' di contatti in giro piano piano facciamo Lillo intanto Silvano ci ringrazio e ringrazio Silvano che ha scritto la Ita Ita Airway adesso io romperò le balle a Napoli Vola chiunque qua sia online e vuole abbinare le balle a qualche via o qualcuno può può farlo vi lasceremo poi con l'immagine adesso appena Lillo è pronto e vuole mi dice l'ok vi lasceremo con l'immagine della della live della live del Genova Fiumicino di sabato e voilà io ci sarei Lillo fammi sapere come sei messo se per te se è a posto se vuoi testare altre cose se no io devo anche far mangiare i cani ok ha mandato un'immagine questa è l'immagine ecco questo è Lillo dunque lui fa un veloce un grazie